Così come in tutta Italia, anche nel Salento l'affluenza alle urne appare in calo. Il dato è ancora parziale perché alle 12, momento della prima rilevazione, non tutti i comuni avevano fatto pervenire al Ministero le percentuali precise dei votanti. Comunque, da una prima valutazione, come si diceva, sembra che non ci siano grandi code ai seggi. Alle 12 aveva votato il 10% della popolazione circa di tutto il Salento. E nello specifico il 10,81% a Taranto, in calo poco meno di un punto percentuale rispetto al 2008. 10,25% a Brindisi rispetto all'11,49% delle precedenti elezioni politiche e 10,11% a Lecce con un calo di 1,80 punti percentuali rispetto all'ultima consultazione. È pur vero che mai alla prima rilevazione si è potuto capire l'andamento reale dell'affluenza al voto. Saranno certamente i dati delle 18 e delle 22 che faranno comprendere l'orientamento degli italiani e dei salentini. Questo perché l'astensionismo è il nemico giurato dei partiti, quello da combattere più di ogni altra cosa. E fino a qualche settimana fa sembrava anche essere costituito da una grossa fetta di italiani che anziché scegliere di affidare la propria fiducia alla politica tradizionale o all'avanzata di coloro che si pongono come alternativa, preferivano disertare totalmente l'appuntamento con il voto. Tradizionalmente è la serata della domenica che registra il pienone dei votanti e se questo sarà confermato anche nel 2013 lo potremo capire solo fra qualche ora.